E ciao a tutti! Mi chiamo Vlada4GlientKabikov e oggi giriamo 100 pulsanti sott'acqua e solo uno ti salverà! Sì sì, questo è quel video in cui vari liquidi, vili, disgustosi e cattivi verranno versati sulla nostra testa! E sì ragazzi, non avete sentito male il tutto sott'acqua! Abbiamo migliorato le nostre scatole e oggi per tutto il video, mentre staremo lì dentro, l'acqua verrà versata attraverso quel tubo nelle scatole e mescolata con tutti gli ingredienti disgustosi! E per non rimanere per sempre in quella schifezza fino al collo, devi trovare rapidamente il preziosissimo pulsante ESCI! E voi ragazzi, premete rapidamente il preziosissimo pulsante ISCRIVITI sotto questo video! E staremo in queste scatole molto più piacevolmente! Andiamo ragazzi, facciamolo! Bene, come avrete notato, noi siamo in tre e le scatole sono due! Ragazzi, con una vittoria, forza! Quindi ora è il momento più importante di sasso carta forbici! Uno, due, tre! No, no! Io entro nella scatola! Le probabilità sono 50 e 50! Ti leggo come un libro aperto semplicemente! Uno, due, tre! Ah, sì, 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 sì! Oh, no, no! Sì! Io scelgo questo box! Scegli quello che vuoi, diamine! Forza! Adesso vi porto la scala! Opla! Ciao! Io non voglio farlo! Bisogna, 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 per il bene degli iscritti! Per il fatto che in questo momento hanno premuto il pulsante iscriviti, è necessario ringraziarli con contenuti interessanti! Dai ragazzi, mettete un bel mega like sotto questo video perché abbiamo fatto del nostro meglio per costruire scatole così fantastiche! In realtà devono sopportare una tonnellata e mezza d'acqua! Ok, andiamo, dai! Ragazzi, ho portato la scala! Sì, grazie! Grazie! Vabbè, siete già dentro, ce l'avete fatto? Ok, la prossima volta! Oh, fratello! Vabbè, un bel monolocale così comodo, sai? Sai, come studentato! Già voglio premere qualche pulsante, ma sai, non si può fare! A proposito, non abbiamo deciso chi preme per primo! Non io, non io! Carta, sasso, forbice! Sì! Sei in primo! Sì, grazie, grazie! Non so chi ha pregato Glently che tipo di divinità, ma sto iniziando io! Bene, ragazzi, siete pronti? Avevo quasi dimenticato un piccolo dettaglio, aspettate! L'acqua! Acqua! Io l'ho dimenticato completamente! Ah, è andato, è andato, sta arrivando l'acqua! Bene, come vi sentite? Non ho ancora capito la temperatura! Bene, adesso premete il pulsante! Inizierò dal basso, con il verde, con questo! A ogni pulsante ha un ingrediente registrato, ascoltiamo! Fieno! Fieno! Accidenti, il fieno è in generale, metto gli imbrogli! Ora arriva il fieno qui! Ciao, bello! Ciao! Prendi! Puoi farti una lettiera! Accidenti, ora tutto si mescola con l'acqua! Come in un pollaio! Beh, il fieno a proposito è un grande vantaggio, perché assorbirà l'acqua in eccesso! Sì, letteralmente una tonnellata e mezza deve essere assorbita! Fieno frittelle, che fortunato! Volevo iniziare con qualcosa di leggero! Ok, inizierò anch'io dal basso! Che paura! Vorrei scegliere la stessa cosa, same! Dai, dai! Scelgo questo! Ascoltate! Scudo! Scudo? Di cacca? Non lo so! Nello specifico la verseranno un secchio di cacca! No, lo scudo! Voglio dire lo scudo! Glenda, aspetta! Non avere paura! Questo è davvero uno scudo per il primo round! Puoi usarlo per difenderti! Oh, va bene, va bene! In che senso? Bene, ovvio! Ha beccato il bonus e tu non l'hai beccato! L'acqua continua a piovere! Bene, l'acqua si è già accumulata fino alla caviglia! Ah, calda! Sì, potrebbe fare più caldo, eh! Bene, sorry! Premi il pulsante! Finora clicco tutti quelli inferiori, perché quando affonderanno sarà più difficile prenderli! Andiamo! Casco da pilota! Casco da pilota? Che tipo di salvataggio è? Bonus, bonus, bellezze! Yo, che fortuna, ragazzi! Tieni, ma ricorda, è solo per il primo round! Oppa! Oh! Andiamo avanti! Glient, tocca a te! Non lo so, ho paura! Sceglierò questo verde, il colore della vita! Cornetti di mais! Rutto! Cornetti di mais! Normale! Niente, va bene, si risolveranno qui! Dannazione, saranno puzzolenti! Non dimenticare di usare lo scudo! Esattamente, mi è stato dato lo scudo per un solo round! Bene, pronto! Sì, spero che ce ne siano pochi là fuori! Ma sì, un po'! Eh, che stai facendo? Si conferranno tutti! No, 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 no! E ce n'è di più, il secondo pacchetto, prendilo! No, basta! Fermati! Accidenti, il mio sedere di fiero è già bagnato e sento l'acqua sotto di me salire! Ora restituisci lo scudo! Prendilo! Accidenti scudo, ciao! Bleh! Si sono inzuppati tutti, guardate! È come una specie di purée di patate! Bleh! No! Vlad, dai, scegli! Penso, penso! Beh, mi piace l'arancione qui, questo! Ok, premo! Infusione di tè! Oh! Ora sarà divertente sederci! Infuso di tè! Adesso ti faremo un bel tè! Mi chiedo se la mia acqua si scurirà, si trasforma in tè! Oh, penso che sia calda! Pronto? Sì! Ci abituiamo, ci abituiamo! Sei come un paracadutista che è caduto in un campo! Frittelle, la mia acqua è iniziata a scurirsi, guardate! Accidenti, e cosa ci sarà alla fine del video? Mescola, bevi il tè, ridammi il casco! Sì, restituisci il casco! Eccolo che arriva! Mi ha aiutato così tanto! È tutto unto nel grasso! Bene, il profumo qui è come in una sauna ora! Accidenti, si riempie così velocemente! Glant, forza! Ops, c'era un spulsante che è quasi affondato! Dai! Smarties! 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 Sì, bello, bello, bello! Frittelle, stiamo andando molto easy per ora! Capisci che non ci libereremo del liquido disgustoso? Capisco! Glant, non dimenticare che uno Smarties da solo pesa poco! Ma quanti ce ne sono tanti? Un intero secchio? Aspetta, ti dito io quando sono pronto! Aspetta! Questo era un test, adesso arriva il resto! Aspetta, aspetta! Ehi, avanzi! Oh, la massa che mi co... Date un'occhiata in cosa si sono trasformati i cornetti di mais! La cosa interessante è che hanno un buon profumo e finalmente c'è un buon odore qui dentro! Sì, ma ora si dissolveranno e si trasformeranno in zucchero, appiccicose, insomma, beh, tutto come piace a te! Sì, adoro! Bene, dai, è il turno di un lad, andiamo! Dai! Questo l'ho premuto, questo l'ho premuto, è rimasto il viola! Dai! Vai! Birra! 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 Sì, sì, sì! 100% avrai un bel liquido marrone! Sono sicuro? Senza preavviso! Guardi così sono trasformati gli smarties! Oh, oh! Tutti bianchi! Io lo sono! Ho visto tutto! Oh, accidenti! Oh, 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 oh! Come va? Sì, è dolce, che significa che freddo diventerà appiccicoso! Oh, Dio! Glend è come se fossi in un calderone con una semola di qualche tipo! Generale, è terribile qui dentro, è tutto grasse, anche gli smarties mi entrano nel sedere, diamine! Cosa? Beh, come dire, si attaccheranno al sedere! Ragazzi, dannazione, Glend! Non è uno scherzo, qui sbrigati! Bene, scelgo questo arancione! Iuppi! Iuppi! No, 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 Iuppi, no, no! Diventerò tutto rosso, dipinto! Sarà dipinto e sarà anche appiccicoso, perché Iuppi è dolce! No, no, per favore! Dai, preparati, arriva qualcosa di liquido in testa! E questo non è liquido! È Iuppi, è una polvere che tinge moltissimo! Polvere di Iuppi, pensavo fosse liquido! Oh, wow, non ho visto così tanto Iuppi, pinta mia! Ma come? Mmm, buono! Mangia aria più velocemente! Stai fumando! È delizioso, davvero, un'aria dolce! Wow! Ah, è fantastico! Andiamo avanti, dai! Quindi è il mio turno! Devo muovermi rapidamente verso l'uscita! Blu! No, non blu! Sì, blu, ma qui! Aggiungiamo questo! Asciugamano! Un asciugamano è un bonus! Vlad, è stufato con questi bonus! Asciugamano! Ma io l'ho dolce! Ma Vlad, l'asciugamano sarà particolare! Prendilo! Eeeh! 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 È un asciugamano pressato che a contatto con l'acqua si srotola! Ma dimmi, dannazione, come posso usarlo correttamente? Ti asciugherai con un asciugamano puzzolente! Ah, 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 ah! Ascolta, beh, farò un cappello ora! È vietato dalle regole! È un asciugamano per un round, tra l'altro! L'ho deciso io, sono il presentatore! Eeeh, cof, lo scriverò in un quaderno! Non ricordo, scrivo io tutto quanto! Finalmente, finalmente sono io il presentatore! Posso vendicarmi di tutto! Guardate com'è iniziato a crescere rapidamente! Cosa? Eeeh, perfetto! Cos'è quel calzino? Oh, frittelle, mi farò un fazzoletto! Per un round! Bene, per un round, quindi per un round! Glend, forza! Dai, su! Frittelle, guardate, la prima fila dei miei pulsanti è affondata completamente! Anche io, quindi, cosa c'è qui dietro? Cioè, no, si sto facendo clic su questo! Spingi, Glend! Pacciame! Pacciame? Cacca? Tu fai la cacca, questo è pacciame, qualcosa di diverso! Cos'è il pacciame, mai sentito? In breve, Glend, il pacciame è la corteccia dell'albero! Ehi, fa male! Perché non si potrebbe chiamare solo corteccia? Beh, perché è un particolare tipo di corteccia? Particolarmente puzzolente! Perché non sia particolarmente puzzolente! Beh, penso che si gonfierà esattamente come i bastoncini! Dai! In breve, prendi tutto, dai! Questo non è piacevole! Puzza davvero! Sono una specie di bagno rustico! Sì, va bene! Quindi non è selvaggio! Quindi sono pronto per andare avanti! Dai, hai un fazzoletto per una volta! Quindi puoi scegliere qualsiasi ingrediente! Dobbiamo scegliere più in alto! Voglio fare un esperimento! Improvvisamente più in alto sarà più puzzolente! Questo è il pulsante più in alto, sembrerebbe! Oh, l'asciugamano è quasi caduto! Hop! Eeeh! Spaghetti! Spaghetti! Oh, mamma mia! Italiano! Spaghetti! In Italia su YouTube invece di un mi piace fanno così! Mamma mia! Mua! Bene, allora! Dai, voglio uno spuntino! Eeeh! 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 Crudo! Oh! Basta! No! Non è nemmeno la metà! Oh! Accidenti, guardate! Il mio box si trasforma! Tieni! Grande festa! Mamma mia! Può essere usato al posto dei bastoncini cinesi! Pfff! Un normale life hack! Eccomi cofo, vedo che ci sono molti spaghetti, vero? Ehehehehehe! Eeeh! E' quello che mi è caduto addosso, frittelle! Posso usarlo come un sedile a sedermi sopra? Non fare l'imbroglione, eh? Sì! Ha! Sembra ovviamente bello! Sì, mi piace! Non mi sento molto solo! Io sono tutto ingrassato! Non avrei mai pensato che sarei stato confortato da un abbraccio di spaghetti! Ehi, dammi l'asciugamano già, eh! A proposito, dammi l'asciugamano! Ragazzi, siamo già arrivati alla seconda fila di pulsanti! Aaaaaah! Glentino, dai, tocca a te! Questa lancione che mi piace! Ossa di carne! Ossa di cane! Prendi! Ai, Cupikoff! Stai attento, per favore! Bene! Ai, fa male! Ai! Ah! Prendi tutto il resto! Ah! Au! Ma in realtà mi sembrava più un salvataggio! Quindi, penso di premere! A, B, B! Chi sta sotto non lo so! Questo! Arancione! Hot dog! Hot dog! cani caldi anche le salsicce crude e si sono bagnate spero che non siano esplosi nuotano come ti sembra ben ti sto lentino forza ok scelgo questo sacchetti sacchetti beh credo sia un salvataggio e vediamo sacchetti di cosa sacchetti e sacchetti va bene basta che siano vuoti per favore dai eccoli dai sacchetti guiri ci si può difendere ehi non mettali in testa altrimenti li prenderò ok ora andiamo a b b o chi sta sotto non lo so mayo ketchup mayo ketchup adesso io riempirò i tuoi hot dog ragazzi yes boy quale mayo ketchup ero così felice che non ci fosse la salsa pronto no quanta ce n'è lì un intero secchio ora io dog sono pronti a tutti gli effetti ragazzi mi sento benissimo e ho iniziato a pensare che il video fosse senza un vero schifo ora io vado c'è un tasto qui dietro ah quindi ho avuto un colpo sulla copra guarda ragazzi il mayo ketchup abbiamo dato in faccia come state ragazzi è già la fine questa fila di pulsanti affondata ok quindi se torniamo a loro dobbiamo chiudere questi lentino forza ho trovato il pulsante dietro di me guarda ora lo primo dose di buon umore dose di buon umore questo è un bonus sì una don per il buon umore forse grazie è improbabile che mi metta di buon umore client puoi farcela mi piace sei tu follower che mette glent un like posso avere anch'io un like venderò la pasta per questo beh naturalmente non arrenderti grazie vlad a 4 beh un supporto potente uva la cosa più importante è prendere un paio di pezzi prima che tocchino il mayo ketchup che uva deliziosa lancia per favore un ramoscello oh sì maio ketchup ne ho salvato un po forza oh yeah divertiti ok mi piace tutto lentino forza mentos con coca cola cosa sarai completamente tutto nella schiuma abbiamo coca cola mentos glen tieni la coca cola e ora ci mettiamo le mentos inclina la faccia sul secchio non mi sembra che succederà niente perché funziona solo con la bottiglia bene allora versetela addosso versalo ancora una coca cola se non lo fai allora ne metterò un'altra ok 1 2 3 fritelle oh sorry beh lo lasciamo lì che cosa spiacevole anatre ora ti lanceremo le anatre non vive spero beh non lo so vediamo ok ora arrivano tutte insieme dai divertiti anatre ancora io scelgo questo viola riso con salsa di soia riso con salsa di soia un po di sushi nel nostro gioco un secchio di riso un secchio di salsa di soia e non così tanto è in generale guardate quanto è alta l'acqua è già sul vetro glentino meglio chiudere gli occhi mi piace sicuramente questo gioco non ho commenti puzza terribilmente qui dai vladio ora tocca a te così 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 ok ho anche dietro la schiena seduto dietro la mia schiena 5 litri d'acqua 5 litri di acqua oh santa fritella santa fritella questo è un salvataggio che mi aiuterà a sistemare un po le cose sulla mia testa perché ora non sono messo molto bene perfettamente non lo direi 5 litri di acqua vlad a 4 oh che bella dolcia accidenti non potevi tranquillamente lavarmi la faccia beh ma io non volevo farlo e che sta succedendo lì non scorreggio io non sono io dai glentino premi il pulsante si lo farò ora quindi quale scegliere per qualche motivo mi piace molto i colori blu di solito quando lo premio succedono cose belle ho trovato il pulsante blu qui per favore una cosa adeguata sabbia 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 no no un po di sporcizia per te aspetta aspetta non sono pronto ancora aspetta 1 2 3 ah hai deciso di mescolare il cimento qui o cosa bene andiamo vlad i miei cappelli fai davvero al più velocemente è terribile avete notato com'è salita l'acqua si è altissimo ho quasi paura di stare qui dentro allora 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 il blu l'ho premuto questo qui che ha affondato shampoo shampoo accidenti era necessario al contrario prima lo shampoo e poi l'acqua occhio dai piano piano ooooh shampoo shampoo bene lavati bella zio andiamo da glent l'acqua continua ad accumularsi quindi andiamo dovete trovare una via d'uscita l'acqua è già davvero troppo non so nemmeno cosa scegliere lascia perdere torta torta ti consegna perchè sono quasi sfortunato non ho capito tutto qui tutto qui davvero è una cavolata allora è un odore abbastanza buono ehi vada ti puoi fare una schiuma qui capito davvero guarda qui io facevo così nella maschera bambino oh cavolo guarda guarda come va eh così si poteva fare quindi vabbè anche il tuo metodo funziona ehi comunque con la schiuma è molto meglio eh bene dai scegli il pulsante scelgo questo sale marino sale marino oh questo è spaziale alcuni semplici trattamenti termali oh è blu così bello oh che bella è bellissima davvero è molto bello vlad sei fortunato senti in questo box è stare come in una vasca per me la schiuma il sale le anatre io qua invece ho una fogna tocca a glent glentino non so nemmeno ora provo a premere uno che si trova sottacco ora lo trovo oh gelatina gelatina cavolo gelatina ho una torta gelatina che cos'altro ai dessert ai 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 Glenda dei dessert tutto il giorno Oggi sono in cucina e Vlad invece è più in piscina Ho la gelatina sotto i miei piedi in questo momento È come se fossi su una medusa Che schifo Guarda quanta schiuma ho fatto Wow sono solo le tue mani Sì il tuo metodo è semplicemente chic Approfittiamone ragazzi Quindi questo è il pulsante in alto Slime Dovrebbe essere divertente Lo slime è una gran figata Mettete mi piace per lo slime in anticipo È come se un mantello fosse caduto su di me Davvero pensavo che sarebbe stato verde Invece è brillante E invece qui è viola Frittelle Glend Sì sei il prossimo Guardate quanto poco spazio è rimasto Non vedrò presto Glend Non ti vedo affatto Il livello dell'acqua sale così velocemente Quindi lasciate che io prima questo pulsante Crema di caviale Caviale? Cosa? Che cosa caviale? Aspetta che mi causa Sono pronto Oh non so cosa sia ma puzza terribilmente Che cos'è? Ragazzi non potete capire il dolore che sto provando in questo momento Che puzza Che è semplicemente impossibile respirare con il naso Se non riesci a sentire l'odore attraverso lo schermo Allora beh Guarda la sua consistenza melmosa È una specie di maionese disgustosa Accidenti Mi concentro costantemente sui pulsanti in alto E ho altri 4 pulsanti sott'acqua da qualche parte Questo Carbone Carbone Che cosa? Carbone di legno Che cosa? Ragazzi frittelle Ora voglio proprio vedere Guarda lo strano ingrediente Accidenti Probabilmente ora sembro un minatore Ma sai cosa mi chiedo? La mia acqua diventerà nera? Si dipinge lentamente La verità è anche cremiana Tre sono amerite Allora ragazzi andiamo da Glenn Forza Eh tocca a me Scegliamo qualcosa allora Ora vado sott'acqua Bene Questo mi piace Bombe da bagno Bombe da bagno Frittelle che fortuna Flavio non ti vedo nemmeno Facciamo un test Dai Oh basta Accidenti non farlo più Non ci saranno test Qualcosa non sibila 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 Oh che odore Meno male Grazie a Dio Questo Tra coprire l'odore di questo caviale Puzzava come aringhe Maionese Era orribile Bombe da bagno Mi piacciono Beh sì L'odore è diventato più piacevole Vlad Tocca a te Guardate Sono già in piedi Fino al collo Senti Mi sembra La pressione dell'acqua è aumentata Quindi devo uscire di quel prima possibile Per farmi capire Gli spaghetti sotto i miei piedi Sono stati a lungo Trasformati in pasta cotta È come se stessi camminando in una palude Quindi questi qui Li ho premuti tutti Ok questo Guardate Ve l'avevo solo alzare la mano Quindi c'era lo shampoo Qui e qui Sciroppo Frittelle In queste sfide non mi piace Ripete tutti il dolce Perché è molto appiccicoso Ma va bene Prendi Oh che odore buono Sembra una caramella Quindi ragazzi Non ho ancora aperto gli occhi Non riesco nemmeno a immaginare Come sembro Ma gli iscritti ti vedono Io anche Questa è una spegia di frittellata Oh mi sto sballando Non me la bagno Andiamo da Vlad Io ho ancora un paio qui in fondo Oh qui da solo Uscita Hai sentito Via d'uscita Uscita Sta uscendo No no Vlad Non andartene Non lasciarmi No E dove l'hai trovato Dove era Dove era Ho giocato con questo pulsante Quando facevo la conta Che assurdità Frittelle Avete visto Ero così vicino all'uscita Grant Non so se ne è uno anche tu o no Ma avevo il pulsante di uscita in fondo In fondo Ragazzi ho vinto Può uscire Si Ragazzi Guardate che zuppa in cuo bollito Caccavolo Accidenti Glentino Anche tu esci presto Non c'è più spazio libero Ok fuori Oh felice Si Quindi sapete cosa volevo fare Volevo entrare in acqua A proposito Prima le persone nell'acqua di lago Si lavavano Abitualmente E ora mi lavo anch'io Sballo Va bene Andate da Glent Prima che sia allagato Glent Premi il pulsante Ragazzi Guardate quanta acqua c'è qui dentro Questo è un delirio Dobbiamo cercare Certamente una via d'uscita Qui c'era uno che volevo premere Premiamo con il piede Caffè Caffè Aspetta Aspetta Non farlo Glent Ecco Io pensavo che sarebbe stato un bel cappuccino Accidenti ragazzi Guardate quanto è bello Davvero Che bellezza E l'odore Ha coperto tutto il resto Accidenti l'acqua continua a salire E devo trovare assolutamente Una via d'uscita Ho già premuto tutti i pulsanti qua Dai Glentino Premi il prossimo So che non ho ancora premuto un pulsante a sinistra E alcuni a destra Beh Lasciamo che sia questo Io spero che ci sia una via d'uscita qui Beh dovrebbe essere qui Beh c'è davvero molta acqua Cedrioli salati Cosa Sottoaceti Dai ma non è via d'uscita Accidenti C'è già un po' d'acqua Con un sottaceto È uno scherzo Quasi sta già rilassando lì fuori Sì bevo il tè qui Dov'è il pulsante di uscita Non riesco a capire Non ho nemmeno premuto questo Uscita Uscita Via d'uscita Uscita Fuori Bene voglio uscire Io voglio uscire Ho un pezzo di corteccia Accidenti sono come un trattore ninja Che è uscito dalle fogne Ragazzi guardate quanti secchi sono rimasti Sì c'è una specie di melma Con una mosca morta dentro Guardate Cavolo marino Stufato Questa è una delle sfide più difficili A cui abbia mai partecipato Grazie al cielo ho trovato L'avete uscita Sono così felice E ciao a tutti Mi chiamo Vlada4 E Glent Sirioga Ehi Sirioga ma chi è questo? Questo è il mio maiale Si chiama Zucchina Allora ragazzi Abbiamo deciso di trascorrere un giorno intero in queste case sull'albero E le abbiamo costruite noi stessi E ci sono voluti tre giorni Tre E guardate che bellezza che è venuta Siamo già diventati adulti Grandi E sappiamo come costruire In breve sarà divertente Ti suggerisco di trascorrere questa giornata con noi Sarà fantastico Metti mi piace per delle case così eleganti Chi è il primo a mostrare la sua casa? Io 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 Ho una casa molto bella e tecnologica Ci ho messo di tutto lì dentro È stato molto difficile da costruire ma ci sono riuscito Senti che cos'è? Una parabola? Sì ho messo la tv qui Ragazzi ho internet via satellite e la tv Io in generale sono il vicino perfetto per te Ti darò la wifi Ho tutte le cose con me Resta solo da disimballarle e metterle dentro in casa Tutte a loro posto E questo un tappeto così alla moda? Io ho una casa high tech High tech? High tech Tu hai un villaggio tech e io una high tech Non commentare la mia casa È confortevole È davvero fantastica Si può chiamare appartamento VIP Ah Benvenuto nella mia casa sull'albero Accidenti Ho dimenticato di depire la porta Questo ovviamente manca A proposito la porta si apre in questo modo Come potete vedere la mia casa sembra molto semplice Ma ho un altro amico con me E non gli ho ancora dato un nome a questa gallina Pertanto scrivetelo voi nei commenti Accetterò tutto Ok guardate andiamo lì Ho un prato qui sotto la casa Questo è per zucchina Andiamo zucchina È un recinto Ok E così zucchina non scapperà spero Lasciate che vi mostri cosa succederà intorno alla casa Intorno alla casa avrò un tavolo Bene Qui si potrà mangiare Fare picnic Sedersi Sedie Sicuramente ho legna ad ardere con me Il bastone nel caso in cui alcuni animali selvatici Vogliano conoscere i miei animali domestici Faccia in fretta Ma se il bastone non aiuta Ho una trappola Ecco la reale Ok la metto anche qui da qualche parte È una pentola di ghisa per cucinare Bene O se diventa noioso per fare le penitenze E qui ho un intero cassetto di tutti i tipi di cose per la casa E questo E questo Lo porto dentro Bene Il mio approccio è molto semplice Ho speso un bel po' E ho comprato di tutto Ho i materiali più costosi Prodotti più costosi E le cose più interessanti per la casa Solo che dannazione Non so come portare tutto questo in casa Ma niente Pezzo per pezzo Oh E se non lo sapeste Questo è un frigorifero Tipo mettite il ghiaccio Il cibo E tutto non si scioglie Le scale devono essere necessariamente Ecco qui con la veranda Al mattino esci Come vivono questi poveri vicini Ah chiaro chiaro E di nuovo a casa A riposare Oppa Qui ho due puff per stragiarmi Riposare E forse dormirò su di loro Ho anche due tavolini qui Bene a sinistra Ho una porta che conduce al mio vicino Blatt A4 vive là dentro Finalmente ho scoperto il suo nirizzo Qui ovviamente ho un laptop Inoltre ho portato con me le cuffie Ho anche portato con me un monitor Ma ora userò la tv Bene se diventa completamente noioso Posso invitare un amico a giocare un po' Insieme a lui Molto bene Inoltre per non annoiarmi la sera Ho portato con me anche una cassa Ascoltiamo la musica con i ragazzi Oh ho quasi dimenticato di dire la cosa più importante Ho portato con me una prolunga Perché ho l'elettricità qua dentro In breve ho portato con me un generatore Pensa Ok ora te lo mostrerò Brucia carburante Fornisce energia elettrica Uno sballo Inoltre ho portato con me una telecamera di sicurezza In modo che nessuno possa entrare in casa mia Senza il mio permesso Un avvitatore Certo dovrò anche fare l'illuminazione della mia casa Pertanto ho preso una striscia di led E anche per un completo relax natura Ho portato con me una maca del genere Bene ho tutto pronto E ora lo collocheremo Avremo una casa sull'albero super moderna Su dai facciamolo adesso insieme Ecco Bene ho una telecamera di sicurezza installata Andiamo a mostrarvi quanto bene funziona tutto in questa casa Chiudiamo la porta e benvenuto nella casa sull'albero di Glent Su questo lato del muro ho una striscia led come questa Sarà molto bello di notte Voglio guardarla Ecco il monitor O tv La playstation 5 è collegata ad esso In generale non posso passare solo 24 ore qui Ma un'intera settimana Guardate che cosa ho qui La gallina vivrà con me E a proposito La gallina funzionerà come un sistema di allarme per me Se qualche predatore si insinua Inizierà a schiamazzare E noterà immediatamente il pericolo Vediamo cosa abbiamo nella scatola qui Innanzitutto ho una sedia Acqua Inoltre ho un sacco a pelo qui E il cibo Ho conservato qui in frigorifero un portatile Sono sarsicce e pesce Inoltre ho questi sottaceti Ce ne sono molti qui Ci sono diversi funghi Pomodori Cetrioli Piatti di plastica E questa è una rete da pesca Per ogni evidenza L'ho portata con me Magari andiamo a pescare E naturalmente ho preso tutti gli strumenti Perché non si sa mai cosa accadrà Forse sarà necessario riparare qualcosa Beh proprio come ragazzi ho una porta Ecco conduce la casa di Vlad Così possiamo andare a trovarci l'un l'altro Yo 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 Ora la mia casa sembra così Ricordala così Perché finora non c'è niente qui C'è solo un divano in pelle Così chic Bene Una vista fantastica dalla finestra Una mazza da golf Un trofeo È qui che lo metterò Sapete In queste case da ricchi Fanno sempre così Questa è una lampada d'anello Per registrare TikTok E anche per appendere i vestiti Vero TikTokers Aromatizzatore con le bacchette Lo fanno per tutti i ricchi Piatti Tovaglia per la tavola Ho anche un tale copriletto Per fare i video Ombrello Ho un appartamento Con la terrazza La mia tuta da golf È un plaid Un tappeto Vedremo Tutti i tipi di accessori Da costruzione Bicchierini Pomboletta di vernice d'oro E shampoo secco Beh tipo Ti prendi i capelli E loro diventano puliti Non c'è bisogno di aspettare Che la pioggia li lavi Abbronzante Tutti i tipi di cose Per fare i cocktail Pinze per barbecue Bene Lasciate che vi mostri Quello che ho in frigo Bene Rapidamente Con un occhio E sciroppo al cocco Questo Ora sembra così Dammi un secondo E metterò Tutto in ordine Pau Guarda Ho un posto Per le riprese qui Potrei trovarmi ora In una spiaggia In montagna Nel deserto Nello spazio E persino Sott'acqua E adesso il mio divano Sembra Chic Guarda roba Bene Un tavolo ben ordinato Bene Il top del programma E la mia terrazza Uhuhu Quando mi sono trasferito Dai genitori Non potevo nemmeno Sognarlo Tutti chiedono Costantemente Perché lavoro così duramente Filmati Integrazioni Merchandising Applicazioni In effetti È solo che ho un sogno Voglio una casa Per me stesso Una casa normale Fatta di soldi Nel frattempo Ho questa La mia prima casa Ragazzi Sirioca Gleb Sì Cosa Vi invito a una festa Di inaugurazione Della mia casa Oh fantastico Nessun problema Vieni ora E non dimenticare i regali Per l'inaugurazione Della casa Letteralmente un minuto Vai vai Ecco Vlad Che cavolo di regali Non so nemmeno cosa dargli Oh a proposito Forse gli potrei dare Una bella pianta Questo è nel tema Dell'inaugurazione Della casa E in linea di principio Non sembrano sciocco Porto con me un bicchiere E vado a preparare Il regalo per Vlad Lo inviterò anche A una festa D'inaugurazione Della casa Wow Che bellezza A proposito Non è nemmeno dovuto Camminare lontano Guarda cosa ho trovato qui È come se le avesse Regalato dei soldi Super Beh penso che sia Un regalo normale Sembra anche In qualche modo recente Il binocolo necessario Di questo bisogno Questo è il campeggio Tutto quello che in casa serve Oh a proposito Mi sono ricordato C'è una tradizione Lasciare che gli animali Entrano in casa In modo che la felicità Entri Sicuramente non lascerò Entrare il pollo Ma il maiale Zucchina Può andar bene Felicità in casa Ve lo dico io Oppa Attenzione Oh sento che qualcuno Sta arrivando Sirio Oh ciao Ecco guarda Questa è la tua felicità In casa L'animale per l'inaugurazione Della casa È il primo a entrare Vai vai Zucchina Capisco Sì Il regalo super Sirio Grazie Ciao Auguri per l'inaugurazione Della casa Questo è il mio regalo L'albero dei soldi Bella Grazie Di assurdità Intanto tu Tieni d'occhio Il mio animale domestico No Non te lo darò È entrato con me E io me ne andrò Solo con lui Ma i regali funzionano In un altro modo Bene La tua felicità verrà Vedrai Aspetta un po' Mi hai regalato Energia positiva Sì Questo è il regalo migliore Il più prezioso Va bene Sono d'accordo Già che parliamo di regali Ho pensato Quando il pubblico Ci fa un regalo Iscrivendosi al canale Fanno il pulsante rosso grigio In realtà Fanno un regalo A se stessi Perché un regalo A se stessi? Beh Vedete Avete notato Com'è cresciuta La qualità Dei nostri video Quanto spesso Li rilasciamo È come che stiamo Facendo dei film E questo È tutto Perché voi Vi iscrivete al canale Mi sono appena reso conto Che ci dà la forza E le risorse Per creare E creare video Ogni abbonamento È come un mattone Nella qualità Dei video futuri Pensate Potete influenzarlo È già interessante Quando andremo avanti Come saranno I prossimi video Ecco Se tutti voi In questo momento Vi iscrivete Chi non è iscritto Quali saranno I nostri video Saranno un cannone Inoltre Ora è estate Abbiamo così tanta energia Così tante idee fantastiche E manca Solo Il tuo Sostegno Fallo finalmente Iscriviti al canale E farai un regalo Non solo a noi Ma anche a te stesso Ti divertirai Sempre di buon umore E guardate Zucchina si è rilassata Proprio per bene Sei così bello Così bravo Sei così dolce Aspetta Stai insinuando Che la mia casa è noiosa? No È solo che manca la musica A proposito ragazzi Io ho la musica a casa Andiamo Subito dopo questa inaugurazione La casa da me Solo con i regali Lì una tv E una playstation Playstation Fantastico Va bene Ma vedi Non dimenticarti i regali A proposito ragazzi Che ne dite di un cocktail? Ho tutto per questo Cosa volete? Beh come Beh come ospite Allora mi prendo un cocktail al cocco Anche per me va bene Iniziamo a prepararlo Come fanno i baristi? Oi Prendiamo un po' di sprite Concentrato di limone Penso che un po' di sciroppo di mirtilli Sarà al suo posto Aspetta c'è anche il cocco nel mio cocktail? E ora ci sarà Ok in questo caso Deve essere tutto mixato Shaker Lo shaker a proposito A4 Sono venduti nei negozi O sul sito A4shop.ru Dai come facessimo un rap Oh si Commenta intanto che il barman non sente Il profumo non è buono Si Il cocktail è pronto? Cosa non sento? No Davvero l'odore è molto strano Che cosa hanno queste cannucce così strane Con questo gusto? E' un aromatizzatore Profuma Ah Pensavo che ci fosse un odore strano Cannucce Verde Giallo Blu Un altro ombrello Opa Proviamo i cocktail Festa Sediamoci e proviamo contemporaneamente Filmiamo la reazione Ascolta quindi sono tutti succhi di nuovo oltre in un bicchiere? Multifrutto E anche cocco Non è un frutto Multifrutto con cocco Si Beh darei 6 punti su 10 esattamente Vediamo con cosa ci sorprendi tu a casa tua Beh non dimenticare i regali Andrò a preparare la casa per ricontare gli ospiti E' un peccato che non ho un secondo maiale Non posso regalare una seconda volta lo stesso Ora vado a scegliere un altro regalo per Glent Ciao ciao Bene andiamo Accidenti anche a Glent devo fare qualcosa Ho già dato il regalo più economico originale a Vlad Oh cosa guardate La gallina ha deposto le uova Ben fatto Ne prenderò uno Darò a Glent non solo un uovo ma una gallina La cosa principale è che si schiuda correttamente l'uovo E poi nascerà una gallina come la mia O forse un gaulo A proposito ho un'idea di cosa regalare a Glent Il regalo sarà interessante come il suo Toc 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 Ecco chi c'è Serio che è arrivato Ciao Entra prego Oh la tua porta si apre Oi 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 Immagino sia Vladik vero? Si sono io Ciao Entrate ragazzi Sedetevi benvenuti nella mia casa sull'albero Wow Guarda ha un albero Il design è fantastico Dove l'hai comprato? Che cosa? Il pilone Ma è un albero Ah Bene la casa sull'albero Dove sono i regali? Vieni Questo è il mio regalo per te Questo fiore No no perché hai deciso così Ma questo è il mio regalo per te Questo fiore No no Glent mi sembra che l'abbiamo appena comprato nello stesso negozio Ti do anch'io un albero dei soldi Grazie Io sono stato molto contento del tuo regalo Bene tu seriosa cosa vuoi regalare? Ti darò un pollo Ma è un uovo Questo è un uovo da cui poi nascerà una gallina o un gallo Ottimo quando giochi alla play mettilo sotto di te Bene ragazzi vogliamo giocare alla playstation Dai Bene ragazzi giocate Per ora io lavorerò al mio laptop Giocate già da 20 minuti Andiamo in qualche modo Forse andiamo all'inaugurazione della casa di Serioga Oh forse andiamo un po' più tardi Ho bisogno di un po' di legna da ardere A proposito Zucchini avrò già fame lì Vado a dargli da mangiare Ok vado? Beh un comportamento molto strano non trovi? Sembra che tutti si siano invitati a vicenda per l'inaugurazione della casa Oh è il momento di giocare a golf Ecco cos'altro fare quando vivi vicino a un campo e hai la tua casa lì Giocare a golf Ottima idea Ah qualcosa in questo lodge sta già diventando noioso Devo almeno mettere la musica Oh la festa è appena iniziata Bene un ottimo campo da golf La cosa principale è tirare correttamente Che tipo di musica è? Non mi piace Il golf deve essere giocato in silenzio Accidenti è impossibile concentrarsi con questo rumore Glent calmati Glent non riesce a sentire? Che succede? Chi è? Mi stai percependo in casa? Perché hai ceso la musica così forte? Non posso giocare Bene bene Dov'è più forte? Vado a sdraiarmi sulla macca Sballo Questo è quello che intendo con campeggio Quindi allora per il fuoco ho tutto Oh mi servono i fiammiferi adesso sono a casa Oh questa gallina ha fatto l'odore pazzesco lì Wow mi brucia il naso Accidenti i fiammiferi sono a casa mia Vlad aveva dei bastoncini profumati Dovrò chiedergli in seguito Nel frattempo Ecco i fiammiferi Ora vado a Vlad Glent ha lasciato la sua casa Ok ho un piano Ora vedrete tutto vi filmerò tutto Oh aria fresca Eccola Oh spegniamo Non mi disturberai più Eh Ehi Vlad Sei qui? Non è a casa sua Ok penso che non gli dispiacerà Se prenderò in prestito questi bastoncini di incenso Ventilerò rapidamente casa mia E basta Attenzione Ecco Perché la mia casa puzza così? Non ho capito E le mie bacchette? Eh Penso che il vento le ha spazzate via Non l'ho capito Puzza tutto qui Le bacchette sono scomparte Ecco Sirioga Senti ma Hai rubato tu l'aromatizzatore? No Non le ho rubate Le ho presi in prestito E poi le riporterò Oh ma come Sergei Senza richiesta Non eri in casa Ora ho la casa puzzolente Sei entrato C'è l'odore da contattino Glent Amici Cos'è successo? Sirioga è salito in casa mia Ha rubato i bastoni aromatizzati Andiamo Vado a controllare anche io Vedo chi mi ha rubato cosa eh Non sono nemmeno entrato da te Magari Sì forse Dov'è la musica? Sirioga hai preso tu le casse? Perché avrai bisogno della tua musica? Io qui sto bene La musica deve tornare alla base Oh la connessione è rimasta Andiamo Facciamo una pausa No Non è in casa tua Sirioga È a casa di Vlad Oh Sono in bagno In quale bagno? Riporta la musica alla base Stai ancora andando la colpa a Sirioga eh? Ok vicini casa Non venite più a casa mia Bene tu Dai vai anche tu da qui Che situazione? Beh gli amici mi hanno beccato ovviamente Uno è migliore dell'altro Pensavo di condividere la cena con loro E alla fine non voglio nemmeno vederli Adesso mi ordinerò la cena Ad esempio la pizza Pronto ciao Senta qui siamo nella casa sull'albero Se posso voglio una doppia mozzarella Alla via l'indirizzo Forse ti mando oggi a posizione Pronto? Oh la linea è caduta Evidentemente non consegnano fino a qua Allora proponerò a Vlad Dammi da mangiare come scuse Questo per avermi rubato la musica Ottima idea Ok Come se qualcosa non fosse sufficiente Bene aggiungiamo un po' di pepe Presto la zuppa di pesce sarà pronta Manca qualcosa Oh la foresta vado per funghi Chi è? Sono io Glenn Ah che fai? Ciao sono pronto a perdonarti Ma tu per questo mi darai da mangiare e a cena Vuoi una bella bistecca? Mi offendi certo che voglio Ho già marinato Verso solo il limone E aggiungo il sale Oppa Accidenti a proposito Io non ho una finestra del genere Oh serioga va nella foresta Senti ho un'idea Qual è l'idea? Facciamogli uno scherzo Abbiamo bisogno del suo maiale Zucchina Lo prendiamo e lo scambiamo In generale impazzirà Dai 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 Prima che torni Zucchina vieni qua Ok andiamo Ok stai qui e riposa E ora andiamo a grigliare la carne Non c'era a stupirsi Ok non ho capito Dov'è Zucchina? Zucchina ragazzi 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 avete visto Zucchina? Non la trovo Ma quindi Zucchina non l'hai presa Per il nostro picnic? Cosa? L'hai presa eh? Oh Zucchina Dai Si rioga è uno scherzo Queste sono due bistecche Forse il tuo porcellino è scappato Nella foresta Forse nella foresta Guarda guarda Burloni dannazione Zucchina dove sei? Zucchina dove sei? Perderò tutto il giorno Ehi c'è qualcuno qui Prefere di scappare da qui Ascolta mentre si rioga e via Possiamo giocare con Zucchina? Vediamo se ci ascolta Allora così piccola Seduta Sdraiata Voce Rotolare No non si può Ferma Camminare Camminare funziona Ragazzi Oh sirioga guardi abbiamo trovato la tua zucchina Accidenti grazie mi avete aiutato Ragazzi perché stavo correndo? Ero nella foresta mentre cercavo la mia zucchina ho sentito alcuni suoni Calpestì o respiri Penso che ci sia una grande bestia o un mostro di qualche tipo Ma dai non ci credo Ma no sirioga siamo andati così lontano Qui c'è una recinzione Aria protetta Nessuno dovrebbe essere qui Io stesso l'ho sentito calpestare lì e respirare Dai rilassati sirioga Quali mostri? Meglio che vada a cena Ti tagliamo la carne e mangiamo Ora porterò i piatti Sì anche la mia zuppa si sta preparando lì A proposito ho mangiato la zuppa No in qualche modo non l'ho mai provata Vlad tu l'hai assaggiata? Una qualche volta No non mi piace il pesce In breve sirioga puoi mangiare tu la tua zuppa Qui abbiamo la carne appedito a tutti Anche a te Grazie Prendete un po' di formaggio Tieni Sì A proposito una bella idea alle case sull'albero Sapete dove l'ho vista? Gli abbonati nei commenti le hanno scritto dicono Fate delle case sull'albero In genere adoro quando gli abbonati ci offrono idee per i video Questo è fantastico sono molto intelligenti E quante idee del genere abbiamo già preso? 20 video almeno Attenzione ragazzi Sì È lo stesso suolo che ho sentito al bosco Forza ognuno nella sua casa Ragazzi non vi ho detto la cosa più importante Quando ho costruito questa casa mi sono preso cura della mia sicurezza Ho installato un sistema di protezione laser qua Chiunque passi attraverso questi laser Sarà tostato Comunque i miei vicini lo sanno Non è pericoloso per loro Pertanto sono completamente al sicuro Tac 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 Che fare? Come proteggersi? Oh Ok adesso abbiamo avuto della legna da ardere lì Ecco questi Così Ora prenderò un coltello E affilerò i pioli da questo lato E poi farò una bella difesa della mia casa Oh Penso che la bestia dovrebbe sicuramente spaventarsi Un cinghiale sicuramente non si arrampicherà qui Gli animali devono essere combattuti con le tecniche del cacciatore Ho una trappola per questo qui sotto Ho questa colla Questa è una colla molto forte Ho intenzione di spalmare questi due alberi In modo che il predatore che striscerà su di loro Si attacchi e non possa più muoversi Allora un albero E anche secondo è stato spalmato bene La trappola è pronta Quindi bene Devo salire e nascondere le scale Cinghiale sto arrivando Ok veloce 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 Generale bella Sono al sicuro Al caldo Con l'elettricità Che cavolo è Non ho capito Così là Il filo del generale si è staccato Di per sé questo non potrebbe accadere Questo è chiaramente qualcuno Che mi sta sabotando Il mio sistema di sicurezza Non funziona più Devo andare più veloce dai ragazzi Vlad apri Perché sei spaventato Vlad qualcuno ha tagliato la luce Là i fili sono rotti dal generatore Ok hai una telecamera laggiù Diamo un'occhiata Esatto Ho fatto proprio bene Ho tutto duplicato sul telefono Ora vediamo chi Questo chi è? Sirioga Sirioga Sergei Sirioga 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 Sì 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 Facci entrare Oh che puzza che c'è qui Andiamo Entrata più velocemente Cos'è successo? Abbiamo guardato le telecamere di Glant Qui c'è un mostro Ha rovinato i fili di Glant Li ha tagliati Dobbiamo isolarci urgentemente da lui Dai dai Oh qui è certamente stretto Sicuramente non è una bestia Ma un mostro Per tanto è urgente tagliare questa scala Beh non ci sono opzioni Sirioga poi dobbiamo alzare le scale Nessuno salirà Dai Sirioga Taglia Dai Sirioga Perché così piano? Sì finito quasi Sicuramente non si arrempicherà Hai visto? Visto Deci sentire il suono Spengi la luce Spengi la luce Cosa? Dai guardiamolo Ho un binocolo Ok ok lo vedo Cosa? Cosa c'è? Un mostro? Ragazzi questa cosa non è un mostro Perché? Questo è un uomo vestito da cespuglio Mostro è il cespuglio Ragazzi ci siamo imbattuti In uno scherzo molto duro Questo costume di Kobiakov Da prank L'ha già stato tre volte E Kabi Kov? Andiamo Prankiamo anche lui E catturiamolo Sono d'accordo Facciamo in modo che si avvicini E lo prendiamo Accendi il bracere Oh che cibo delizioso Glent Dove hai preso questa ricetta? Questa è una ricetta molto segreta Nessuno la conosce Queste sono le salcicce più deliziose del mondo Ragazzi per ora vado a prendere le salse Quindi forza prepariamo Sirioga aspetta Vengo con te Prendo le bevande segrete E io allora prenderò le tazze Per le bevande segrete Forza ragazzi Deve funzionare Mi chiedo Cosa ci sia di così gustoso lì Oh sì Dobbiamo avvicinarci E controllare Proprio mentre se ne sono andati Ehi Beccato Beccato Grazie.